del Verde. In particolar modo chiediamo che 200 milioni di euro sequestrati alla cupola di Roma, mafia capitale, siano con decreto legge immediatamente utilizzate per realizzare almeno 100 asili nido a Roma, per realizzare la manutenzione del Verde e dare i buoni casa alle giovani coppie romane. Solo questo sarà il modo per recuperare un rapporto con la città, restituire mal tolto i beni e i patrimoni dei corrotti alla città di Roma. Questo sarebbe un atto di grande giustizia, questo chiediamo al Presidente del Consiglio che si accinge a fare un decreto legge anticorruzione.